La chiesa di San Martino si trova sulla collina nord del centro abitato, nei pressi della Via Romana, che collegava Cavour, antica Cavourum, alle Gallie, passando da Pedona, oggi Borgo San Dalmazzo. La bella facciata e il fianco sinistro presentano mattoni e ciotoli di fiume e mostrano le numerose trasformazioni subite dall'edificio. Gli affreschi dei viazzaci sono collocati nell'abside centrale, ai lati di una piccola monofora che fa filtrare la luce. Sulla sinistra sono il Salvatore, San Francesco, San Fiorenzo, San Martino Vescovo. Sulla destra la Madonna in trono con Gesù Bambino, San Giuseppe e San Bernardo. Fino al 1928 gli affreschi erano ricoperti da Scialbo, che fu asportato nel 1962. Poco dopo si eseguì una radicale opera di ridipintura, che ha integrato le figure e gli sfondi con molta libertà, cambiandone radicalmente l'aspetto e rendendone difficile lo studio. Nonostante ciò, gli studiosi ritengono che gli affreschi originari siano stati realizzati dai viazzaci negli anni 80 del 400.